ciao a tutti ragazzi benvenuti sul canale gameplays un saluto al vostro amico salvo in questa breve videoclip che sto per pubblicare che vi chiedo di guardare parliamo dei trofei di lord of the fallen quello nuovo che ormai tra poche ore potremmo giocarci ho visto i trofei sono 63 stranamente nella lista trofei non ci sono trofei d'oro ma solo argento e platino ma il livello di difficoltà per patinare questo gioco è molto molto alto tanto per capirsi ragazzi patinare questo loro le falle sarà un dito lì dove non batte il sole non sarà affatto facile vediamo c'è il gioco mi prende perché a me il gioco deve prendere per poterlo platinare che l'ho detto non sono un platinatore seriale ma se il gioco mi prende io lo platino quindi questa notte non giocherò ma non proverò il gioco a mezzanotte si aprono i sigilli sarò dieci minuti con i miei amici impatti per decidere quale classe iniziare domani pomeriggio alle cinque e poi lì inizieremo la guida e quant'altro quindi vi do appuntamento domani alle 5 ragazzi già voi lo sapete quindi sono curioso vedere classi vediamo cosa scegliamo detto ciò credo che ci divertiremo tantissimo però ripeto finché non ci metto le mani non posso dire nulla non posso dare una recensione poi durante il gioco quando lo finiremo come voi ben sapete poi io dirò la mia dirò darò la mia passione recensione ok pubblico questo videoclip da caso sotto vi allegro i trofei e ci becchiamo alla prossima ragazzi ciao a tutti